Milano, polo di attrazione per le più importanti società e professionisti internazionali, si conferma una città in continua evoluzione. Anche Agora continua il suo inarrestabile processo evolutivo con una nuova sede, rinnovando il suo polo didattico, il centro clinico e l'area di ricerca e validazione scientifica, per offrire corsi sempre più dinamici ed avanzati. Dal 10 al 12 ottobre Milano è la medicina estetica, grazie al congresso Agora 2019. 2019, oltre 350 speaker ed opinion leader da tutto il mondo, oltre 3.000 partecipanti ai lavori congressuali, oltre 1.400 metri quadri di superficie espositiva dedicata ad innovative tecnologie e device, giornate specialistiche dedicate alle branche afferenti alla medicina estetica, per una sempre maggiore integrazione e collaborazione tra le discipline. 1981-2019, 38 anni di scienza, formazione e sicurezza per la medicina estetica. alla prossima